E' mercoledì 18 ottobre, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale, questa mattina in regia Michele Venditelli in apertura, torniamo a parlare del progetto Pizzone II, presentato dall'Enel per la realizzazione di un impianto nel cuore del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, perché il Consiglio regionale, approvando all'unanimità una mozione presentata dal PD, ha espresso la netta contrarietà. Soddisfazione è stata espressa dal coordinamento No Pizzone II, che tuttavia non abbassa la guardia e annuncia nuove iniziative per scongiurare definitivamente il rischio che la centrale alla fine venga realizzata. Ascoltiamo Anna Maria Di Matteo. Al progetto dell'Enel di realizzare un impianto nel cuore del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e Molise, il Consiglio regionale ha detto no, approvando all'unanimità la mozione presentata dai consiglieri PD Salvatore Fanelli e Facciolla, che impegna il Presidente della Regione e l'intera giunta regionale a ribadire in modo netto la contrarietà al progetto di riutilizzo di due invasi che si trovano in territorio di Montagna Spaccata, in provincia dell'Aquila, e di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, un progetto per una nuova centrale da 300 MW, così come previsto nella proposta presentata al Ministero competente. Il pronunciamento dell'Aula di Palazzo Daimo in sostanza accoglie le richieste giunte dal territorio dopo la mobilitazione di associazioni, enti e comunità locali che, riunitesi a Pizzone in un'assemblea pubblica, avevano ribadito con forza il no all'impianto perché hanno specificato, localizzato in un contesto unico dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, e il coordinamento no Pizzone II, che aveva anche organizzato un sit-in davanti al Consiglio regionale, ha commentato con soddisfazione il voto espresso dall'Aula. È un ulteriore passo per proteggere un'area bellissima tra Molise e Abruzzo, tutelata dal Parco nazionale e il commento dell'Associazione, ma la lotta è ancora lunga perché Enel non ha ancora abbandonato del tutto, un progetto di fatto non emendabile e mitigabile. Per questo, annunciato il coordinamento, la lotta proseguirà con tante altre iniziative e sorprende che la società davanti a tutte queste prese di posizione, con il sigilo di improcedibilità espresso dall'ente Parco, continui a ritenere realizzabile un intervento così invasivo e che certo non potrà mai essere modificato nei tratti principali come lo scavo di gallerie all'interno del territorio. La società farebbe bene ad abbandonare definitivamente questo progetto devastante, il cui impatto non può essere mitigato in alcun modo. Noi, ha concluso il coordinamento, proseguiremo la mobilitazione per l'orso, la bellezza delle montagne, la tutela della salute e il futuro della popolazione. Per la produzione di uva in Molise è una stagione da dimenticare. Le cooperative che realizzano vini in regione parlano di devastazione produttiva a causa della malattia che colpisce le piante. È andato perso l'80% della produzione. Il servizio è di Enzo Luongo. Oltre l'80% dell'uva molisana, in alcune aree anche il 100%, è andata persa quest'anno a causa della peronospora, una delle malattie strettamente correlate ai cambiamenti climatici in corso. Si tratta di una vera e propria devastazione produttiva, spiega il presidente di Conf Cooperative Molise, Riccardo Terriaca. L'anomalo andamento stagionale, infatti, con le abbondanti e continue piogge che si sono registrate in primavera, ha sostanzialmente impedito ai viticoltori di attuare il piano di prevenzione senza del quale il fungo sia diffuso nei vigneti, rendendo vana ogni successiva azione risanatrice. Ad una situazione già difficoltosa, legata alla crisi di mercato che colpisce soprattutto i vini rossi, a partire dalla tintilia, il settore deve far fronte quindi alla mancata produzione di quest'anno che rischia di attestare un colpo vitale a molte aziende produttrici. Particolarmente difficile è la situazione delle cantine cooperative che operano in regione. Non c'è prodotto da lavorare, spiega Terriaca. Le scorte di magazzino sono in esaurimento e riescono a fatica ad essere collocate sul mercato. I costi fissi e i mutui accesi per l'adeguamento delle strutture e delle tecnologie degli impianti incombono senza pietà. Nel decreto asset il Ministero dell'Agricoltura interviene per mitigare i danni subiti dal settore con misure rivolte esclusivamente ai viticoltori, evidenziano i presidenti delle cantine cooperative Cliterni a Valtappino e San Zenone. Purtroppo nulla invece previsto per dare sostegno alle cantine cooperative che di fatto assicurano che la marginalità derivante dalla trasformazione delle uve in vino e dalla loro commercializzazione possa ritornare direttamente ai soci produttori grazie allo strumento dei ristorni. Ecco perché le cantine cooperative molisane stanno sollecitando una moratoria sui mutui in corso e la sospensione dell'incremento annuale delle superfici coltivate. CONF Cooperativi ha fatto anche un appello alla regione affinché metta a disposizione del settore un adeguato sistema di assistenza tecnica attraverso l'ARSARP e affinché possa offrire anche strumenti adeguati per sostenere le aziende regionali attraverso la FIMMOLISE, la finanziaria della regione. Bene, è tutto per l'informazione, passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura di rassegna stampa diamo uno sguardo alla home page del giornale del Molise. In apertura i provvedimenti del governo per le casse regionali, il governo Meloni vicino al Molise, 43 milioni di euro per chiudere il bilancio 2023. Poi da Campobasso, Ruspe alla Montini e via Crispi, poi a Lugni a Selvapiana. Vediamo le altre notizie in evidenza, Campobasso bonifica a Tappino per rimuovere 4 tonnellate di rifiuti da una discarica abusiva. Poi notizie del mondo dell'agricoltura, uva in Molise è perso l'80% della produzione, l'allarme delle cooperative. Andiamo a vedere gli altri giornali online, diamo uno sguardo alla home page dell'Eco dell'Alto Molise. Vastese libera contro le mafie, Donciotti basta indifferenza e neutralità, servono cittadini responsabili anche in Molise. Questo è il pezzo di apertura che insieme alle altre notizie può essere letto sull'Eco dell'Alto Molise Vastese. Vediamo invece come apre Termoli Online. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sul controllo della pesca. Anche su Termoli Online questo ed altre notizie da consultare sulla home page. Andiamo adesso alla prima pagina di Primo Piano Molise. Aumenta l'IRPEF, Cefaratti l'assessore al bilancio, dice troppi debiti inevitabile. Il provvedimento riguarda le fasce di reddito che superano i 28 mila euro, addizionale unica al 3,33%. Il Governo ci sta aiutando, dice Cefaratti a patto che facciamo. La nostra parte, liste d'attesa. Roberti punta il dito su chi ha gestito la sanità negli ultimi anni. 60 mila prestazioni. In evase. A centropagina si parla della centrale Enel, Pizzone II. Palazzo d'Aimmo dice no alla mega centrale. L'aula si esprime all'unanimità, i comitati ringraziano ma restano sul chi va là. Sorprende che la società continui a ritenere realizzabile l'intervento. Vediamo le altre notizie dall'Europa. Bruxelles approva il regolamento controlli armatori. Fine della pesca, dicono gli armatori. Isernia, centro Alzheimer, vertice con il direttore generale dell'ASREM, pratica chiusa in due mesi. Poi il riconoscimento, il gambero rossa, segna tre bicchieri al contato 2019 di maio. Norante ancora notizie da primo piano. L'incarico da sfidanti a partner Tratturi, Emilio Izzo, consulente di Roberti, nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo. Monteroduni, furto al barri, latri, mettono fuori uso la videosorveglianza a 12.000 euro il bottino. Poi l'appello di Conf Cooperative, Peronospora, raccolto dell'Uva, K.O., S.O.S. delle cantine, anche noi stritolati, la regione ci supporti. Andiamo in taglio alto per le notizie sportive. Lupi, il DS, Filipponi, rosa da puntellare a dicembre, 500 biglietti in vista di Sora. Coppa Italia di Serie D, Campobasso impegnato sul campo del notaresco Isernia. Il DG Palmeggiano dice, siamo forti, continuiamo a giocare in questo modo. Lasciamo la stampa locale e andiamo alle prime pagine nazionali, che quasi tutte questa mattina si occupano dell'orrore della guerra in Medio Oriente. Medio Oriente in fiamme, titolo al Corriere della Sera, Gaza strage all'ospedale, centinaia di vittime accuse Hamas Israele. Oggi Biden a Tel Aviv, la Giordania cancella il vertice. Morto uno dei tre italiani coinvolti negli attacchi, ucciso il killer di Bruxelles, sbarcò a Lampedusa. Poi in taglio centrale si parla di pensioni, natalità, fisco. Con le novità della manovra, questo sul Corriere della Sera. Andiamo invece alla prima pagina di Repubblica. La strage che riaccende l'odio, questo è il titolo principale, si parla della striscia di Gaza, chiaramente. Colpito l'ospedale al Ali. Hamas accusa 500 morti, un crimine di Israele, colpevoli anche gli Stati Uniti, dice Hamas. Ma l'esercito nega è stato un razzo dei terroristi islamici. Proteste in piazza da Ramallah a Tunisi. Erdogan dice barbarie disumane. Hezbollah proclama un giorno di rabbia senza precedenti. La Russia dice intervenga l'ONU. Intanto Biden vola a Tel Aviv, ma Abou Mazen e la Giordania cancellano il vertice di Hamman. Restiamo sempre su questo tema. Jihad, massima allerta in tutta Europa. Bruxelles, ucciso l'attentatore, sbarcò in Sicilia. Andiamo avanti con il fatto quotidiano. La mattanza di Gaza, scrive in apertura il giornale diretto da Marco Travaglio. La mattanza di Gaza, 500 morti in ospedale. Accuse incrociate, arabi contro Israele, che nega non siamo stati noi. E oggi arriva Biden, la più grave strage di civili dal 2012. L'ONU dice Tel Aviv ha colpito la nostra scuola. Già mille i bimbi uccisi. Invasione congelata. Andiamo avanti con la stampa nazionale. Diamo uno sguardo adesso all'avvenire. Strage in ospedale, scrive il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Una esplosione tra i malati al Ali di Gaza per Hamas, 500 morti. Israele respinge le accuse. Biden oggi a Gerusalemme, in Giordania, con due obiettivi. Aprire i corridoi umanitari e scongiurare l'invasione della striscia. Putin in visita a Pechino fa quadrato con l'Iran. Restiamo sempre sull'avvenire. L'attentatore di Bruxelles, passato dall'Italia, 12 anni fa ucciso dalla polizia. A Milano arrestati due fiancheggiatori dell'Isis. Lasciamo l'avvenire e passiamo alla stampa di Torino. Strage all'ospedale di Gaza, questo è il titolo della stampa. Bombardamento alla vigilia della visita di Biden a Tel Aviv. Abou Mazen annulla l'incontro. Netanyahu dice potremmo non invadere la striscia. Il ministro della salute palestinese poi commenta ci sono centinaia di morti. Israele respinge le accuse. Sono stati i razzi di Hamas. Questa è la posizione di Israele riportata dalla stampa. Andiamo adesso alla prima pagina del quotidiano comunista. Il manifesto senza pietà. Titolo secco. Strage a Gaza assediata da Israele. Centrato in ospedale. Centinaia di vittime tra medici, pazienti e rifugiati. Monta l'Arabia dei palestinesi. Arramallah assaltata la sede dell'ANP. I paesi arabi accusano di crimine contro l'umanità. Tel Aviv che dice non era un nostro obiettivo. Andiamo avanti. Passiamo al quotidiano romano. Il messaggero. Ucciso il killer di Bruxelles. Era sbarcato a Lampedusa. Brits della polizia belga in un bar. La suede era un lupo solitario. Il tunisino identificato in Italia entrava ed usciva dai centri di espulsione. Poi anche chiaramente sul messaggero la notizia di Gaza. La strage in ospedale. Poi si parla di divorzio. Sempre in prima pagina sul messaggero. Divorzio in un giorno. La Cassazione taglia costi e lunghe attese. Andiamo avanti con la stampa nazionale. Passiamo a Libero. Il terrorista sul barcone scrive Libero le conseguenze dei porti aperti. Il commento. L'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa. La sinistra diceva che nessun jihadista si affiderebbe agli scafisti. A Milano scoperta cellula dell'Isis. Cercavano soldi per la guerra. Poi anche qui la notizia dell'esplosione in un ospedale a Gaza. E strage. Israele è stato, dice, Israele è stato un razzo sparato da Hamas. Centropagina ancora notizie di guerra. Attenti a Putin. La Russia prepara il riarmo atomico. Lasciamo Libero. Andiamo al quotidiano della destra. Il secolo d'Italia. L'attentatore di Bruxelles sbarcò a Lampedusa. Questo è il titolo di apertura. Poi le notizie in primo piano. Meloni all'Unione Europea. Il terrorista di Bruxelles. Fermate gli sbarchi. Poi la notizia della strage all'ospedale di Gaza. 500 morti. Israele accusa Hamas. E lasciamo adesso l'informazione dei quotidiani per passare a quella economica con il sole. 24 ore. Doppia apertura. La prima dedicata alla guerra. Missile sull'ospedale a Gaza. 500 morti. Già mille bambini uccisi dalle bombe. Scrive il quotidiano di Confindustria. Poi l'altro titolo. Pubblica amministrazione. Ecco tutti gli aumenti nella busta paga di Natale. la manovra 2024 con il decreto anticipi erogati 2 miliardi per gli stipendi di fine anno agli impiegati 800 euro. 1.500 ai medici. 1.200 ai prof. E 700 agli agenti di polizia. Vediamo adesso con la gazzetta dello sport le notizie sportive. Due i temi di questa mattina in prima pagina. Innanzitutto la sconfitta dell'Italia. Brivido Italia. Scrive la gazzetta. Euro 2024. Dopo il K.O. con l'Inghilterra. 3 a 1. Non si può sbagliare. Partenza sprint. E Scamacca colpisce. Ma c'è Belli in gol. Cane e Rashford. Decisive per gli azzurri a novembre. Le sfide contro Macedonia e Ucraina. In taglio alto. Si parla di calcio scommesse. Tonali ha scommesso. Sul Milan. Le puntate non avrebbero inciso sul risultato. Sandro rischia un anno di stop. Fagioli patteggia. 7 mesi più 5 di rieducazione. Prima pagina del quotidiano abruzzese. Il centro super bonus. Si ha la legge. Abruzzo questo dice. In apertura l'edizione principale. Il Consiglio regionale approva lo sblocca Cantieri. Ma ne salva solo 2 su 100. Vediamo a centropagina una nuova foto. Notizia. Quando accendere i termosifoni. Ecco tutte le date. Poi la cronaca. Bomba nell'auto di un finanziere. L'inchiesta punta sul chietino di spalla da Pescara. Chiesa gremita per i 94 anni di padre Guglielmo. Andiamo. Restiamo sempre sulla prima pagina dell'edizione principale del centro. Naiadi. L'avvio è con l'acqua fredda. Pescara. Riapertura della piscina. Tra i disagi. E scoppia il caso dei 300 atleti rimasti fuori. Vediamo adesso le edizioni locali del centro. Nuovo ospedale si a Villa Mosca scrive l'edizione dedicata al Terramano. Vediamo le altre notizie che propone questa edizione. Da Roseto. Finiti i soldi. Ucraini. Sciopero della fame. Siamo stati abbandonati. Enel. Megaprogetto per la centrale. Terramo. Previsti 3,5 chilometri di gallerie tra l'impianto di San Giacomo e il lago di Piaganini. Ancora da Terramo. Riaperto Ponte San Gabriele dopo cinque mesi. Conclusi i lavori che hanno bloccato la corsia verso Via Po. Andiamo avanti con le edizioni locali. Vediamo adesso quella che riguarda il territorio di Chieti Lanciano. Vasto. Raimondi in retroscena dell'addio. Chieti l'assessore di missionario dice devo tutelare la mia famiglia. Basta. Attacchi. Vediamo le altre notizie. Da Lanciano. Lanciano su chi l'ha visto. Sparito da due mesi. Tutti gli appelli cadono nel vuoto. La cronaca. Incendia la casa del nonno. Bloccato. Villa Magna. Trentenne fermato dai carabinieri. Dopo la fuga. Fiamme appiccate con la benzina. Da Chieti l'omaggio al duo comico. A teatro il mito di Staglio e Olio. Vediamo l'ultima delle edizioni locali del centro. Quella dedicata ai territori di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Multate i genitori dei baby bulli. Questo è il titolo principale. L'Aquila vandali e ragazzini violenti nei parchi. L'opposizione scrive al questore. Vediamo le altre notizie. Da Tagliacozzo. Azienda a fuoco. Scatta una gara di solidarietà. Sempre su questa edizione. Malore sulla 14. Muore un maestro di sci. Lutto a Pescasseroli. Finamore aveva 52 anni. Ha fatto in tempo a fermare la sua vettura dall'Aquila. Nuovo asilo nido per 50 bambini. Lasciamo adesso il centro. E passiamo alla edizione abruzzese del messaggero. Autostrada chiusa. Traffico in tilt. Questo il titolo principale. Un incidente paralizza l'area metropolitana tra Pescara e Chieti con gli automobilisti costretti a deviazioni e lunghe code. Si è ribaltata una bisarca con auto di lusso a bordo. Vediamo poi la vicenda che riguarda le naia di acqua fredda alle naia di disagio e scontro politico. A 24 ore dalla riapertura esplode nelle chat la rabbia degli utenti. Il gestore rassicura dicendo che è un problema che si risolve. Bene, si chiude qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti. Buona giornata. Grazie a tutti.